Il modulo tratta delle anomalie binoculari. Le anomalie binoculari sono divise partendo dai valori delle forie e del rapporto C su A. Sono descritti nel taglio i sintomi e i segni tipici di eccesso di convergenza, insufficienza di divergenza, eso di base, exo di base, insufficienza di convergenza ed eccesso di divergenza. Infine viene presentata anomalia per anomalia, indicazione del trattamento più utile per rendere più efficace e confortevole l'utilizzo degli occhi a tutte le distanze.